Ancora una giornata di passione per i pendolari, caos ieri alla stazione di Maccarese, malori tra i viaggiatori. L'ospice oncologico era atteso per settembre l'avvio dei lavori, l'iter ha arenato in regione per l'accreditamento dei posti letto. Pugilato rinviato ai primi di dicembre il mondiale WBC dei crui stra Branco e Fragomeni per la location dopo Roma spunta anche Los Angeles. E ben trovati in nuova edizione del telegiornale Alto Lazio. Ancora una giornata di passione per i pendolari della linea FR5. Ieri mattina infatti il convoglio delle 7.39 ha interrotto la corsa a Maccarese, corse e malori tra i viaggiatori nel tentativo di raggiungere la destinazione. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Tragico media ieri mattina alla stazione ferroviaria di Maccarese. In centinaia, ambulanza annessa, hanno assistito all'ospirare del 71.47, il treno regionale delle 7.39 proveniente dalla Dispoli e che lento come una lumaca avrebbe dovuto portare a destinazione i viaggiatori della FR5. Ma qualcosa è andato storto. Dopo un primo segnale di infortunio da parte del convoglio, verificatosi a Torre in Pietra, che però non ne ha interrotto la corsa, se non per i 15 minuti necessari a fargli riprendere fiato, i 1.200 pendolari, una volta a Maccarese, non hanno potuto proseguire la loro corsa verso la meta. Convoglio morto. All'annuncio del capotreno, immediate le scene di ordinaria follia che hanno accompagnato il tantamma alla stazione. Guerra tra 1.200 pendolari sul treno e i 1.200 pendolari in banchina che tentano di salire sul treno già stracarico. Molti pendolari che nel vedere un altro treno sopraggiungere si sono precipitati da uno all'altro convoglio, correndo nel sottopasso dove in tanti sono caduti presi dalla concitazione. E ancora, diversi malori per mancanza d'aria, è la cronaca di Roberto Oertel del Comitato Pendolari Litorania-Roma Nord. Molti viaggiatori che hanno riportato ferite salendo e scendendo dai convogli. Sembra di essere a Bagdad, ma siamo solo a Maccarese, che si trova nella regione Lazio, trasformata dalla Polverini in un campo di battaglia tra pendolari, treni, bus, malavita e monnezza. Proprio come Oertel rassegnato è anche Rosario Sasso, un altro pendolare della FR5. Viaggiare con treni in Italia è diventata una scommessa. Ogni mattina ci domandiamo, oggi arriverò in orario al lavoro? Forse sì, forse no. Cambiano le stagioni, non cambiano i problemi per quanto riguarda la movita notturna a Civitavecchia. Sabato notte, infatti, si sono resi protagonisti due individui sempre in zona ghetto, che dopo un acceso scambio verbale hanno proseguito con le mani ciò che avevano lasciato in sospeso con le parole. Solidi attimi di tensione prima che tutto tornasse tra le righe. Domenica mattina, invece, uno scenario quanto meno triste. Tappeto di cocci di vetro per terra con un'ordinanza, quella contro il vetro, che sembra quasi fosse stata emanata solamente per una zona e solamente per l'estate. Due rumeni residenti a Civitavecchia sono stati arrestati dai carabinieri di Viterbo per furto aggravato. La coppia, 25enne lui e 21enne lei, era diventata da tempo l'incubo dei negozianti della galleria Tuscia. Nascondevano, infatti, dentro un passeggino gli oggetti rubati. L'ultima volta i carabinieri hanno trovato sotto una copertina, invece di una neonata, una console per videogiochi di ultima generazione, materiale di elettronica e vari profumi ed articoli di cosmesi. Per entrambi è quindi scattato l'arresto. E dalle 19.30 di oggi fino alle 7 di venerdì prossimo, benzinai chiusi per sciopero. Confesercenti FIAB e CISL-FEGICA hanno deciso di indire tre giornate di sciopero. A Civitavecchia tutti e 16 gestori hanno deciso di aderire a riduzione della pressione fiscale e maggiore liberalizzazione del mercato. Questi, oltre alla difesa del bonus fiscale, i motivi al centro della protesta. E dopo la scoperta sul sito della ASL Roma F, dell'azienda vincitrice della gara d'appalto per i servizi da fornire alle disabili della RSA Calamatta, immediati i commenti del mondo politico. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio. Vittoria per la cooperativa sociale Melanie Klein. Premio l'affidamento del servizio di assistenza diretta e di supporto alle disabili assistite alla RSA Calamatta. Una vittoria che arriva dopo la calda estate, che ha visto schierarsi in prima fila amministrazione, sindacati e movimenti politici per salvaguardare i posti di lavoro dei 35 dipendenti della struttura, che in base ad una lettera inviata dalla dirigenza della ASL Roma F ad uno dei partecipanti alla gara, nella quale si dichiarava la non obbligatorietà da parte della ditta di mantenere il personale in quel momento impegnato presso la RSA Calamatta, sembravano a rischio licenziamento, e che sono stati salvati, almeno fino ad oggi, grazie all'accordo sottoscritto, poi, fra sindacati a ASL e comune. E al nome della vincitrice è seguito un coro preoccupato. In prima fila, SEL. Ci avevamo azzeccato. Come prevedevamo, delle cinque ditte partecipanti alla gara per la gestione della RSA Calamatta ha vinto proprio quella che aveva i favori del pronostico. La ASL avrà sicuramente valutato la qualità e la quantità delle prestazioni che la ditta giudicataria fornirà ai pazienti. Noi, da parte nostra, vigileremo affinché non ci sia una riduzione del servizio, né una riduzione della professionalità presente attualmente, e che tutto il personale venga riassorbito dalla ditta giudicataria. Vogliamo solo ricordare, ha detto SEL, che tutte le domande formulate ai primi giorni di agosto da SEL stesso e anche da altre forze politiche e sociali locali e riprese da tutti i giornali telematici locali e dai quotidiani sono rimaste rigorosamente senza risposte. Al preoccupato coro si aggiunge il consigliere PDL Anita Cecchi. L'impresa che ha vinto la gara deve possedere tutte le necessarie competenze per svolgere il servizio di assistenza verso i pazienti ricoverati presso la struttura. Il servizio deve essere utile, efficace ed efficiente, al fine di garantire tutte le cure possibili agli ospiti della struttura e la necessaria continuità terapeutica. E aggiunge, la politica dovrebbe rimanere fuori dalla sanità e spero vivamente che le voci che in queste ore circolano sul nome già conosciuto della ditta vincitrice siano assolutamente infondate perché in caso differente saremmo di fronte all'ennesimo schiaffo soprattutto verso i pazienti che chiedono solo di essere curati. Avviata l'istituzione per la nascita della consulta contro le mafie a darne annuncio il consigliere provinciale dell'Italia dei Valori Alvaro Balloni la consulta avrà il compito di promuovere iniziative di informazione rivolte ai cittadini, ai lavoratori dipendenti e agli eletti nei comuni ma non solo, si occuperà anche di accordi con enti pubblici e privati e con associazioni di categorie avvolti a realizzare azioni di contrasto alla criminalità si occuperà inoltre del monitoraggio costante dello stato dei beni confiscati e del monitoraggio degli appalti pubblici nonché della fornitura di servizi agli enti pubblici presenti sul territorio provinciale e porto e città i rapporti, le prospettive di sviluppo e la sinergia per rilanciare le sorti economiche e occupazionali del nostro territorio saranno questi i temi che verranno affrontati questo pomeriggio alle 17 presso la sede della Rete dei Cittadini in via Strambi 5 a Civitavecchia all'interno di un convegno pubblico al quale parteciperà anche il presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti e cambiamo argomento come se non bastasse ci si mette anche il maltempo il quartiere di San Gordiano a Civitavecchia fa acqua da tutte le parti ormai si perde il conto delle buche e le perdite idriche presenti sul manto stradale del quartiere Civitavecchiese una zona tra l'altro che da molto tempo vede latitante l'attenzione degli assessori competenti in materia via delle Verbene e via Bianconi per esempio sono le veterane per l'ultima di queste due a quanto dicono alcuni residenti della zona è stato anche presentato un esposto in procura poi c'è via delle Azalee dove l'acqua sotto un condominio a Persino creato della vegetazione si è infiltrata fin dentro gli scantinati del palazzo i residenti stanchi e preoccupati chiedono l'immediato intervento dell'amministrazione comunale non sono ancora iniziati i lavori di realizzazione dell'atteso hospice oncologico a giugno sembrava tutto fatto l'assessore provinciale ai servizi sociali Claudio Cecchini aveva infatti annunciato la consegna delle chiavi entro un mese e mezzo l'iter si sarebbe arenato in regione sull'accreditamento di almeno 8 posti letto e la gestione del centro sentiamo i dettagli nel servizio era il mese di giugno quando l'assessore alle politiche sociali della provincia di Roma Claudio Cecchini aveva annunciato nel giro di un mese e mezzo la consegna delle chiavi per l'avvio ufficiale del cantiere la posa della prima pietra con i lavori della durata di circa 18 mesi per l'atteso hospice oncologico ma della struttura al momento neanche l'ombra eppure i partecipanti al tavolo coordinato dalla fondazione Carici avevano tutti espresso commenti entusiasti al raggiungimento di questo importante obiettivo la strada sembrava davvero spianata per la realizzazione dell'ospice oncologico il centro residenziale per le cure palliative che sarà ospitato presso la ex casa cantoniera di proprietà della provincia sulla braccianese Claudia l'iter a quanto pare si sarebbe arenato in regione sulla questione relativa all'accreditamento di almeno 8 posti letto e di conseguenza la gestione dopo l'ultima riunione di luglio espletate tutte le formalità chiusa la procedura del bando di gara per l'affidamento dell'Alpalto il coro è stato unanime ora la palla passa alla politica e proprio qui lo scoglio per ora non si riesce ad andare avanti una questione fondamentale quella dell'accreditamento di posti letto e della gestione del centro per evitare soprattutto di costruire l'ennesima cattedrale del deserto ipotesi da scongiurare soprattutto quando si parla di sanità un progetto da oltre 2 milioni di euro molto atteso nel territorio perché andrebbe a colmare una lacuna sanitaria e potrebbe diventare un centro di eccellenza ma ovviamente alle parole e all'impegno di chi da sempre ha mostrato di credere nel progetto occorrono i fatti quelli concreti in grado di dare il via libera una volta per tutte alla realizzazione della struttura ed ora passiamo alla consueta pagina sportiva Roma o Las Vegas queste le due location in Lizza per ospitare il mondiale di pugilato tra Silvio Branco e Giacobbe Fragomeni match valido per l'assegnazione della Corona WBC dei massimi leggeri il luogo dell'evento sarebbe dovuto venire a conoscenza del grande pubblico la settimana scorsa problemi legati agli sponsor però hanno dilatato i tempi e così anche la data dell'incontro è stata posticipata il giorno preciso ancora non è stato ufficializzato qualora l'incontro si dovesse disputare in America avverrebbe all'interno della convention WBC una rassegna pugilistica che dovrebbe prevedere cinque incontri tutti validi per l'assegnazione di un titolo mondiale se si materializzasse questa soluzione l'appuntamento potrebbe essere o al Cesar Palace o all'MGM di Las Vegas sulla location dell'incontro si è espresso proprio il barbaro la mia volontà ha spiegato Branco è quella di combattere a Roma vicino casa mia i tre titoli mondiali finora conquistati sono arrivati tutti lontani dalla mia terra di origine il mio desiderio è quello di coronare questo sogno a Roma voglio conquistare il quarto mondiale in altre tante categorie ha concluso il campione di Civitavecchia di fronte al mio pubblico ed ora calcio a 5 è andato all'Atletico Civitavecchia per 3 a 1 l'atteso derby di serie D di calcio a 5 femminile che vedeva contrapposte le giovanissime lieve della Tirrena le esperte giocatrici locali del team sponsorizzato PMT Ecologia le ragazze di Olimpia Santoro hanno comunque fatto un'ottima partita mettendo più volte a rischio la porta avversaria soprattutto ad inizio partita ed ora brutta sconfitta per il Civitavecchia uomini impegnato sul campo del Real Marsico in serie a 2 di calcio femminile le nero-azzurre hanno perso con il risultato di 5 a 2 le reti sono state assegnate da Morelli e Filippi la partita è stata senza ombra di dubbio condizionata dal maltempo che ha reso praticamente impraticabile il campo mi è piaciuto il carattere delle ragazze ma in quel campo era impossibile giocare ha fermato il tecnico De Gaetano ed infine vela la prima regata del 23esimo campionato invernale 2011-2012 trofeo Paolo Vananzeli organizzato dal circolo nautico Riva di Traiano doveva tenersi la scorsa domenica ma è stata annullata a causa delle difficili condizioni meteo Fabio Barasso presidente del comitato di regata ha sperato fino all'ultimo momento per dare inizio alle procedure di regata purtroppo però il tempo ha lasciato poche speranze le barche partecipanti tenute per precauzione vicino all'imboccatura del porto sono dovute così tornare agli ormeggi dandosi appuntamento per la prossima regata che si terrà il 20 novembre a Riva di Traiano ed è proprio il circolo nautico Riva di Traiano che sarà anche l'organizzatore del campionato italiano assoluto d'altura 2012 ad annunciarlo il presidente Alessandro Farassino questo prestigioso evento tornerà così a svolgersi nel Tirreno presso il Moderno Marina situato a 60 chilometri da Roma dove fu organizzato nel 2000 e questa era la nostra ultima notizia il telegiornale Alto Lazio torna con una nuova edizione alle 19.45 grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti